Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. A commento della scritta merde rinvenuta sulla saracinesca del circolo PD di Rione Sant'Omaso ad Avellino e dell'auto incendiata al consigliere comunale Sabino Morano, l'ex senatore Enzo De Luca, Dixit. Viviamo un clima di grandissima crisi dei partiti, ma avvelenato e alimentato anche da chi oggi è al governo. Di Grazia potrebbe De Luca spiegarsi meglio? Cosa vuol dire? Forse che 5 Stelle e Lega avvelenano il clima solo perché stanno portando alla luce le porcate della sua generazione politica? Grazie a tutti.